All'interno del panorama medievale, uno degli autori che inizieremo a prendere in considerazione in merito all'argomento ontologico non può che essere San Tommaso d'Aquino. Per importanza, per appunto peso del suo pensiero, esso è un autore imprescindibile all'interno del contesto medievale e sappiamo che la sua ricezione dell'argomento ontologico è stata molto particolare e per certi aspetti anche molto critica. È un autore indubbiamente, come dicevo, fondamentale e imprescindibile e la sua posizione nei confronti dell'argomento ontologico presenta alcune criticità, non soltanto perché egli stesso appunto lo ha recepito in maniera critica, ma per il modo stesso con cui lui lo ha recepito. Sappiamo infatti che San Tommaso è un sostenitore delle dimostrazioni a posteriori dell'esistenza di Dio, quindi quel tipo di prove che partono dal mondo sensibile, dalla realtà appunto quotidiana, quello che noi possiamo esperienzialmente constatare, e per via induttiva giunge appunto a constatare, a argomentare con una serie appunto di passaggi logici la dimostrazione appunto dell'esistenza di Dio. Quindi è un tipo di procedimento che viene specificamente definito come metodo a posteriori. Questo lo colloca appunto in maniera critica nei confronti di quello che lui riteneva all'argomento a priori di Sant'Anselmo, quindi già in questo senso c'è una sorta di approccio pregiudiziale all'argomento anselmiano. Il problema appunto di questa critica che San Tommaso rivolge ad Anselmo è che c'è un fraintendimento di fondo del pensiero di Anselmo stesso, cioè quello che voglio porre qui in analisi è che lo stesso Sant'Ommaso nel momento in cui ha iniziato a analizzare, a trattare l'argomento di Anselmo, lo ha sostanzialmente frainteso. Quindi la critica che lui rivolge contro l'argomento di Anselmo in realtà è fondata proprio purtroppo su questo tipo di mancata comprensione del senso di fondo dell'argomento anselmiano. Sappiamo infatti che, come primo approccio, Sant'Ommaso pone una sorta di quesito, di domanda in merito appunto all'esistenza di Dio e alla conoscibilità dell'esistenza di Dio, alla dimostrabilità dell'esistenza di Dio. E cioè si domanda se l'esistenza di Dio sia qualcosa che è già per sé nota, quindi è già immediatamente evidente, ha già una sua evidenza veritativa immediata all'interno della mente umana, oppure se, ripeto, l'esistenza di Dio possa e debba in qualche modo essere dimostrata per via argomentativa, per via di ragione. Quindi già in questa ottica Sant'Ommaso pone una distinzione tra un tipo di evidenza, per certi aspetti innata o comunque immediata, una sorta di intuizione idetica del divino, della sua esistenza, e la contrappone a invece un procedimento argomentativo per passaggi, per snodi logici, che arrivi, argomentativamente parlando, a una dimostrazione dell'esistenza di Dio. E, appunto, posta questa distinzione, Sant'Ommaso pone, propone, cala la dimostrazione di Anselmo, la prova ontologica, la pone all'interno di quelle che sono le convinzioni che Dio possa essere in qualche modo intuito e quindi la sua esistenza sia in qualche modo già immediatamente evidente alla mente umana. Quindi questa è, diciamo, la precomprensione entro cui Sant'Ommaso pone la prova ontologica di Anselmo. Questo, però, appunto, è già una criticità, perché Anselmo stesso non ha mai voluto proporre la sua prova come una intuizione già immediatamente evidente alla mente umana dell'esistenza di Dio, del divino. Anzi, in tantissimi punti, in tantissimi brani del proslogion, Anselmo stesso ribadisce nettamente e fermamente che non è questa la sua intenzione e, anzi, la sua tipo di argomentazione è tutt'altro. Non a caso Anselmo stesso parla di unum argumentum, quindi di un'argumentazione, di un argomento, di un, appunto, di un qualcosa che è dimostrativo, non un'intuizione auto-evidente, immediata e idetica del divino e dell'esistenza del divino alla mente umana. Quindi, un'analisi più approfondita, un'analisi comparativa dei testi di Tommaso e dei testi di Anselmo su alcuni brani specifici mostrano come, tra i due autori, in realtà c'è una profonda affinità, c'è una profonda sinergia, una profonda uguaglianza di intenti e di presupposti. Tanto Sant'Ommaso quanto Sant'Anselmo non ritenevano che di Dio si avesse una conoscenza già a priori immediatamente evidente nella mente umana. Ma, anche nel proslogion, questa è una dimostrazione che Anselmo intende svolgere per pervenire alla conclusione che Dio esiste. Quindi, in quest'ottica, posso ritenere che probabilmente Sant'Ommaso non abbia avuto a disposizione o non abbia letto i testi originali di Anselmo, perché altrimenti si sarebbe reso subito conto di questa affinità del suo pensiero con quello anselmiano e non l'avrebbe criticato sotto questo aspetto, sotto questo punto di vista. Continuando, appunto, la disamina del pensiero di Tommaso, infatti non approfondirò qui questa similitudine, questa analogia nel pensiero dei due autori, perché non è questa la sede. Qui mi occuperò principalmente, appunto, di Tommaso d'Aquino. E, procedendo, appunto, con la ricezione della prova anselmiana da parte di Sant'Ommaso, sappiamo che l'Aquinate propone, appunto, questa duplice visione di qualcosa che è noto per sé, in senso assoluto, quindi per sé noto un quad sé, e qualcosa che, invece, è per sé noto per noi, quindi per sé noto un quad nos, qualcosa che è noto in sé e qualcosa che è noto dal nostro punto di vista, che ci è noto. E, una volta posta questa distinzione, all'interno del contesto che dicevo prima, cioè la domanda di Dio, noi abbiamo già una conoscenza immediata, intuitiva, a priori, o dobbiamo giungere a una sua conoscenza, e quindi ha una conoscenza della sua esistenza per via argomentativa e, quindi, non in maniera immediatamente evidente. Appunto, all'interno di questa domanda, Sant'Ommaso fa questa duplice distinzione. Ripeto, appunto, citando dalla Somma Teologica, una cosa può essere di per sé evidente in due modi. Prima in sé stessa, ma non per noi. Secondo in sé stessa e anche per noi. Infatti, una proposizione è di per sé evidente se il predicato è incluso nella nozione del soggetto. E in questo, appunto, questa distinzione permette a Sant'Ommaso di dire che l'idea di Dio è qualcosa che potrebbe, in qualche modo, includere in sé stessa anche la sua esistenza. Quindi avere l'idea di Dio può permettere, in maniera immediatamente evidente, di giungere al fatto che Dio esiste. Ma questa evidenza è possibile soltanto a chi ha una conoscenza totale, esaustiva, completa del divino. Quindi una conoscenza in sé e per sé. Questo tipo di conoscenza, però, è accessibile soltanto a Dio stesso. Quindi soltanto Dio conosce sé stesso in maniera tale da poter pervenire in maniera immediata al fatto che dall'idea di sé stesso deriva in maniera, appunto, ripeto, immediata la sua stessa esistenza. Questa, però, auto-evidenza dell'esistenza di Dio, ripeto, è possibile soltanto a Dio stesso, non a noi esseri umani che non possediamo questa conoscenza totale, esaustiva del divino, non abbiamo questa, appunto, non possediamo quest'idea di Dio, tale da poter, in base a solo quest'idea, dedurre la sua esistenza in maniera, appunto, automatica. E questa, appunto, è quella che è sempre nella somma teologica Anselmo, perdon, Tommaso pone come distinzione tra una dimostrazione propter quid e una dimostrazione cuia. La dimostrazione propter quid, appunto, che avviene in virtù soltanto di sé stessa, partendo da sé stessa, quella cuia, invece, che avviene, appunto, per via, diciamo, indiretta. Qua il testo di Tommaso è assolutamente emblematico. Vi è una duplice dimostrazione, dice Tommaso. L'una procede dalla conoscenza della causa ed è chiamata propter quid, e questa muove da ciò che di per sé ha una priorità ontologica. L'altra, invece, parte dagli effetti ed è chiamata dimostrazione cuia, e questa muove da cose che hanno una priorità solo rispetto a noi. Ogni volta, infatti, che un effetto ci è più noto della sua causa, ci serviamo di esso per conoscere la causa. Da qualunque effetto, poi, si può dimostrare l'esistenza della sua causa, purché gli effetti siano a noi più noti della causa. Dipendendo, infatti, ogni effetto dalla sua causa, posto l'effetto, è necessario che preesista la causa. Quindi, l'esistenza di Dio, non essendo evidente rispetto a noi, può essere dimostrata per mezzo degli effetti da noi conosciuta. Quindi, anche in quest'ottica, San Tommaso sta ribadendo che, appunto, dell'idea di Dio, noi, qua intesa come causa della conoscenza, noi non abbiamo, appunto, una conoscenza perfetta, immediata e totalmente esaustiva, come, appunto, Dio invece ha di sé stesso. Quindi, per noi sono più noti gli effetti di questa causa, gli effetti di Dio. Quindi, l'unico modo che si potrà, come dire, percorrere, per pervenire alla dimostrazione dell'esistenza della causa, è attraverso i suoi effetti, che sono a noi più vicini, che sono a noi più noti, e attraverso i quali noi possiamo giungere, appunto, alla conoscenza della causa. Quindi, tutto questo pensiero tomistico va a corroborare la sua posizione di pensiero, che, appunto, propone come unica modalità di conoscenza del divino, la conoscenza a posteriore. Quindi, dà gli effetti alla causa, dà, appunto, il mondo esperienziale che noi abbiamo sotto gli occhi al mondo sovrasensibile del divino, e via dicendo, le famose cinque vie tomistiche. Questo, appunto, è l'equivoco, però, interpretativo, entro il quale Sant'Omaso pone, come già accendava in precedenza, la prova anselmiana. Perché, ribadisco, Anselmo non ha mai voluto proporre il suo unum argumentum come una immediatezza dimostrativa, non ha mai voluto proporlo come una evidenza che non richiedesse una dimostrazione o che non richiedesse una argomentazione. Appunto, ripeto, il fatto stesso che l'abbia definito unum argumentum, quindi una argomentazione, l'unico argomento, è indicativo della volontà di Anselmo di operare per via razionale e non di semplice intuizione autoevidente alla mente. E questo, appunto, lo si nota in un altro passo di Sant'Omaso nella Somma contro i Gentili. Al capitolo 10, Tommaso scrive Il tema generale è l'opinione di chi afferma non potersi dimostrare l'esistenza di Dio essendo una verità per sé nota. Questa indagine con la quale alcuni cercano di dimostrare l'esistenza di Dio, questa indagine intesa come la sua indagine che procede a posteriori, può forse sembrare superflua a chi afferma essere una verità per sé nota che Dio esiste, così da non potersi pensare il contrario e che quindi è impossibile dimostrare l'esistenza di Dio. Ed ecco gli argomenti che sembrano favorevoli a ciò. Il primo, sono per sé note quelle affermazioni che sono conosciute non appena se ne afferrano i termini. Per esempio, che una cosa è il tutto e che cosa è la parte. Subito si capisce che il tutto è maggiore della parte. Ma ciò avviene quando si fa l'affermazione Dio esiste, poiché col termine Dio intendiamo la cosa di cui non si può pensare niente di pro grande. E tale è il concetto che si forma in chi ascolta e comprende il termine suddetto. Quindi, almeno concettualmente, Dio deve esistere. Ma non può esistere solo concettualmente perché quanto esiste e nell'intelletto e nella realtà è superiore a ciò che esiste nel solo intelletto. E quindi ora, nel nome stesso di Dio, è incluso che non possa esserci nulla di superiore. Dunque è evidente che l'esistenza di Dio è cosa per sé nota, derivando chiaramente dallo stesso significato del termine. E questo appunto è la contra gentiles di Tommaso. Come vediamo appunto qui, Tommaso ha incluso, ha classificato l'argomento anselmiano del proslogen all'interno di quella categoria di opinioni, di posizioni filosofiche che ritenevano superflue le dimostrazioni dell'esistenza di Dio in quanto nel nome stesso di Dio, nella definizione stessa di Dio, nell'idea di Dio era già concluta, era già concepita in maniera appunto auto-evidente la sua stessa esistenza. Quindi basta il nome di Dio, basta la definizione di Dio come ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, per avere immediatamente la sua esistenza. Però, ribadisco, questa classificazione di Tommaso all'interno di questa categoria di pensiero, di questa categoria di convinzioni, di opinioni, nel quale appunto ha voluto far ricadere anche la posizione anselmiana, è dovuta sostanzialmente a un frantendimento, a una malinterpretazione del pensiero di Anselmo, che non ha mai voluto veramente affermare che bastava avere appunto una definizione di Dio nella mente per già in maniera auto-evidente, in maniera eidetica, per venire alla sua esistenza. in altri punti, tra l'altro, è interessante notare come alcuni autori moderni abbiano riletto il pensiero di Tommaso per appunto arrivare a una considerazione che poneva anche Tommaso stesso vicino alle prove ontologiche. e da questo punto di vista è interessantissima la dissertazione, la, diciamo, posizione di Mondin, Battista Mondin, che nel suo testo L'argomento ontologico della metafisica dell'essere di Sant'Omaso d'Aquino propone una lettura, a mio avviso interessante, della posizione dell'Aquinate. Infatti, in base a Mondin, il pensiero di Tommaso stesso potrebbe essere in qualche modo ritenuto affine all'argomento ontologico in quanto lo stesso Tommaso propone una metafisica dell'essere, quindi ha una concezione forte, ontologica appunto, dell'essere, a partire dalla quale si può davvero notare una sua, diciamo, sesta via, che è appunto la via dell'essere, che, come appunto Mondin afferma, che utilizza Sant'Omaso per arrivare alla dimostrazione dell'esistenza di Dio, che è, secondo Mondin, una via più omnicomprensiva, più generale ancora, rispetto alle cinque vie canoniche, appunto, che vengono esplicitamente citate da Tommaso. L'autore, Battista Mondin, appunto afferma, non tutti sanno che Sant'Omaso non è affatto contrario a un argomento ontologico, concepito come dimostrazione dell'esistenza di Dio a partire dalla perfezione dell'essere attuata in modo finito, partecipato e gerarchico negli enti. Anzi, nei molteplici argomenti elaborati dalla Quinate per provare l'esistenza di Dio, quello ontologico, ne lo mette tra virgolette, è l'argomento che si intona perfettamente con la sua metafisica, la quale, come hanno dimostrato Cornelio Fabro, Gilson, Maritain e De Finans, è essenzialmente una metafisica dell'essere. Quando si parla delle prove tomistiche dell'esistenza di Dio, si fa sempre riferimento alle celebre cinque vie della Suma Teologia, ma San Tommaso conosce anche un'altra via che merita più di tutte il nome di tomistica, perché ha per autore lo stesso San Tommaso ed è la via che, come si è detto, corrisponde direttamente alla sua metafisica dell'essere. Questa via tomistica si può correttamente chiamare ontologica, in quanto conduce a Dio mediante un accurato esame del rapporto degli enti con l'essere. Diversamente dalla prova ontologica di Sant'Anselmo, che è una prova a priori e ricava l'esistenza di Dio direttamente dalla definizione della sua essenza, la prova tomistica è a posteriore. Essa presuppone una determinata idea dell'essere, inteso come perfezione assoluta, ma poi procede a posteriore dall'esame del rapporto degli enti con l'essere, che è un rapporto di finitezza, di partecipazione e di gradualità. Così la finitezza, la partecipazione e la gradualità si configurano come tre modalità della prova ontologica atomistica. La prova ontologica atomistica ha il carattere induttivo, appunto a posteriori, perché tale è, secondo la Quinate, l'indole della ricerca metafisica. Essa muove dagli affetti per risalire alle loro cause. È la via resoluzionis che contrappone alla via composizionis propria della teologia, la quale muove dai principi primi dalle cause per andare verso gli effetti. Quindi, anche qui, si può notare che lo stesso Mondin in qualche modo ricade, in un certo senso, nel fraintendimento tomistico di ritenere la prova anselmiana come una prova che si base esclusivamente sulla definizione di Dio per ricavare in maniera quasi immediata la sua esistenza. Però, al di là di questo, è interessante notare come anche Tommaso può essere riletto in quest'ottica. E la domanda che intendo porre è ma nel momento in cui un eventuale appunto negatore dell'esistenza di Dio, un ateo, ponesse una critica nei confronti di questa sesta via di Anselmo, quindi di Tommaso, quindi dicesse che Dio non esiste. Tommaso stesso, sulla base di quanto detto, non potrebbe in un certo senso procedere nello stesso modo di Anselmo e quindi proporre una dimostrazione per assurdo che ribadisce la validità della sua sesta via, la via dell'essere. A mio avviso, sì, nel senso che siccome in realtà tra Tommaso e Anselmo ci sono delle affinità e dei punti in comune e qui appunto ne abbiamo ravvisato qualcuno, nel momento stesso in cui si negasse il guadagno ottenuto in questo modo da Tommaso, sarebbe lo stesso Tommaso stesso a difendere il suo guadagno e questa difesa del suo guadagno ottenuto altri non è che il tipo di metodo, il tipo di procedimento per riduzio ad absurdum utilizzato da Anselmo per difendere il suo guadagno. Infatti in altre sedi ho sempre sostenuto che il proslogion venendo dopo il monologio altri non è che una ulteriore dimostrazione con un'argomentazione in questo caso davvero unica, un unico approccio con la quale si pone direttamente in interlocuzione dialettica con il negatore dell'esistenza di Dio per smentire la sua stessa negazione ed è lo stesso che a mio avviso potrebbe fare Tommaso stesso. Quindi in conclusione abbiamo constatato che le critiche dell'Aquinate mosse nei confronti della prova anselmiana sono essenzialmente due. La prima riguarda la conoscibilità di Dio. Sant'Omaso aveva classificato Anselmo come se questi avesse voluto negare la dimostrabilità argomentativa e razionale dell'esistenza di Dio in favore di una sua intuizione ed etica pura, diretta, assoluta, autoevidente. Quindi se l'idea di Dio è già presente nella mente dell'uomo e la sua essenza è già conosciuta propter quid da tutti allora è superfluo formulare delle dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Tommaso ritiene che Anselmo stia dicendo questo appunto e quindi molte delle sue critiche sono rivolte ad Anselmo in questo senso cioè non tutti gli uomini anche i tre credenti hanno la stessa concezione della divinità non si può conoscere Dio in se stesso cioè come Dio conosce se stesso tuttavia Anselmo spero che sia chiaro ma eventualmente in altri sedi si potrà ulteriormente approfondire questo punto Anselmo non ha mai affermato nulla di simile anzi il suo approccio alla conoscibilità di Dio non presenta alcuna differenza sostanziale rispetto all'approccio otomistico e quindi le varie obiezioni che Tommaso muove in questo senso contro la prova di Anselmo sono frutto di questo fraintendimento anche quando Tommaso afferma che non tutti hanno la stessa concezione della divinità alcuni dei filosofi pagani ritenevano la divinità in senso panteistico quindi la facessero coincidere con il mondo con l'universo anche in questo Anselmo ha buon gioco a rispondere dicendo che in realtà è lo stesso insipiente a dover in qualche modo premettere una definizione di Dio accettata in senso classico dal monoteismo perché se sta premettendo una differente concezione della divinità il Dio panteista o addirittura il Dio Zeus degli antichi greci quello che lui stesso sta negando non è il Dio monoteista che tanto Anselmo quanto Tommaso vogliono difendere quindi in questo appunto c'è una possibile tranquilla risposta da parte di Anselmo la seconda grande critica che muove Tommaso nei confronti di Anselmo mossa in un certo senso sulla scia della prima riguarda il passaggio dall'esistenza mentale a quella reale il famoso passaggio in debito però anche in quest'ottica abbiamo visto che in realtà se non c'è una reale discrepanza nel pensiero dei due autori se Anselmo non ha mai davvero voluto fare questo passaggio in debito da una idea pura presente in maniera innata o immediata nella mente di tutti gli uomini a una sua esistenza allora è chiaro che non gli può essere imputata questa come accusa quindi quello di Anselmo è davvero un argumentum e quindi come tale deve essere considerato quindi per concludere appunto a mio avviso tra Tommaso e Anselmo ci sono più elementi di affinità e più elementi in cui comuni di quelle che la vulgata la lettura tradizionale dei due autori che solitamente invece sono posti in termini antitetici per la stessa diciamo esplicita posizione di pensiero di Tommaso stesso appunto non ci siano cioè in realtà questi due autori sono molto più affini di quanto loro stessi credevano quindi nella lettura attuale nella nostra lettura sarebbe giusto notare più gli aspetti di comunanza che non le differenze tra i due grazie a tutti grazie a tutti